Benvenuti nella Galassia Rattix, DR Motor, DR 5.0, l'auto ideale per la tua famiglia. Se stai cercando un'auto usata ma in ottime condizioni, questa DR potrebbe essere la scelta perfetta per la tua famiglia. Questo versatile SUV, immatricolato a novembre 2023, offre una combinazione ideale di efficienza, sicurezza e stile. 114 CV alimentazione GPL, per un risparmio sui costi di carburante e un minore impatto ambientale. Colore rosso brillante, per un tocco di eleganza e vivacità. Cambio manuale, per una guida reattiva e coinvolgente e trazione anteriore, che garantisce una buona stabilità su strada. Non perdere questa opportunità. Visita rattix.com per ulteriori dettagli.